La morte di Veronica Locatelli, precipitata da un bastione del Forte Belvedere la sera del 15 luglio 2008, sopralluogo sul teatro della tragedia, a volerlo a distanza di 4 anni, è stato proprio il giudice. Torniamo a Firenze, parliamo e andiamo nello specifico al Forte Belvedere, dove oggi si è tenuto il sopralluogo annunciato nell'ambito del processo sulla morte di Veronica Locatelli. La ragazza, la donna, è rimasta uccisa da una caduta proprio da un bastione della struttura il 15 luglio 2008. Il sopralluogo voluto dal giudice che ha così ribaltato un po' una sentenza in maniera anche inattesa. Sentiamo i dettagli da Francesco Giovannetti. Ricomincia dal luogo dove tutto ha avuto inizio. Riparte così il processo per la morte di Veronica Locatelli, precipitata da un bastione del Forte Belvedere la sera del 15 luglio 2008, con un sopralluogo sul teatro della tragedia. A volerlo, a distanza di quasi 4 anni, è stato il giudice Francesco Maradei, che all'ultima udienza, quella della sentenza, aveva stupito tutti con la richiesta del supplemento di indagini, riaprendo di fatto il processo. E così è stato, alla presenza della madre e del fratello di Veronica, degli avvocati del PM Concetta Gintoli e dello stesso giudice Maradei, si è svolto il sopralluogo. In qualità di testimone era presente l'ingegnere Giovanni Corsi, colui che ha portato avanti i lavori di messa in sicurezza del Forte negli ultimi anni. È stato ripianificato completamente il sistema di sicurezza di tutti i Forti Belvedere. Terrapiani più bassi e più corti, impianti luminari alla base dei muretti, che non possono essere spenti, nuove ringhiere e nuovi cartelli segnaletici, ma anche interventi alla vegetazione del Forte e alla struttura centrale. Questi gli accorgimenti che avrebbero forse potuto salvare la vita a Veronica. Sicuramente è un luogo molto più sicuro, ciò non di meno abbiamo inserito un sistema di videosorveglianza nel piano di sicurezza approvato dal magistrato. Abbiamo richiesto che ci sia comunque presente del personale per fare attività di sorveglianza. Finalmente il tribunale ha disposto il sopralluogo, lo sta eseguendo e c'è la possibilità, credo, di comprendere comunque come sono andate le cose. Adesso il processo che vede tra gli indagati l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici torna nelle aule del tribunale a mercoledì 20 giugno. È fissata la prossima udienza.